Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video, qui Mirko e Federico Siamo di nuovo durati sul campionato master Senti l'episodio se non sbaglio Doviamo fare una partita con l'Inter, iniziamo subito Questo episodio ragazzi è pieno di big match Iniziamo subito con quello con l'Inter Fredes, vede Agüero Agüero, tu per tu col portiere 1-0 Agüero 1-0 Roma Ah, 70 milioni Appena partiti Si va subito in vantaggio Bello, bello, bello Maremma, mamma mia Winni de mabo Winni de mabo Dai cazzo Agüero, stop, destro Cazzo Vi dice qui il primo tempo, Roma 1-0 Bellissima Roma, Inter che non ha strusciato palla Agüero in area Agüero 2-0 Roma Dai, pietà del Kun 2-0 Roma A San Siro, Giuseppe Meazza Chiamatelo come mi pare la Roma E avanti Che ha preso Vai Via Via per favore Che culo Via La linea verde Farete Spera Guero La linea verde Mi sono anche in calzafatto, però va bene Che fallo Grazie Mi ha preso il fallo E' più Dai Rotti Porta Asci Poi E' più E' più E' più Finisce qui, Roma batte Inter 2-0 Come on Oh, terzi in classifica A meno uno per l'Inter secondo Che a meno 10 9 9 Meno 9 Dalla Juve Adesso passiamo subito ragazzi Al derby Eccola La partita più attesa della stagione Il derby di Roma Alle 19.24 Tutto pronto all'Olimpico di Roma Per Roma-Lazio Il derby Ehi 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 Subito scontri in campo Iai Stop Tira Perché ne hai tirato l'ore? Calcio di rigore Ti ho preso il mio Dai 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 Puttalo fuori Allora, visto che è un derby Deve essere Kaplan Dallo Porta Davide Gea Kaplan Kaplan Una 0 Roma Da Gea Rattucce Scheretti E' un gollo Davide Gea Secondo portiere Della Roma Andandare a seguir In questa stagione Roma 1-Lazio 0 Roma avanti Aguario No capriso Io ho supportato un terreno No No Caprema Tutto da ripare per la Roma Finisce il primo tempo Roma 1-Lazio 1 La Lazio col momento Ma riuscita a pareggiarla Vediamo di ripassare in vantaggio Per vincere questo derby Vai fallo 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 E' un'altra cosa E' un'altra cosa Aguario Aguario 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 Sì La doppietta del cunno Non è vero mai 1-0 Cioè 2-1 Eh ma allora Ma non è possibile Mi tira in gol Vai vai No E' mannaggia San Crispino Perché non l'hai messo in gol Pfff Dai se vuol fa Un minuto E' un minuto Che gol di turbe Col telefono tranquilla Prezzo e Roma Poff Ancora in vantaggio La Roma nel derby al novantesimo Riesce a riacciuffare il vantaggio I tre punti Finisce qui Se La Roma vince Roma 3 Lazio 2 Si vuole in classifica Andiamoci a prendere sto cazzo di scudo Quello migliore in campo E andiamoci a prendere pure sta cazzo di Champions League Sempre più terzi A fare i punti con La Napoli Ora ci sarà la partita di Champions League Con il Chelsea Vai Stamford Bridge Chelsea-Roma La partita che potrebbe valere il primo posto del girone Gervinio Mannaggia il tridente del positone là Roma che ci prova subito Già a palo per Gervinio Vai Il gol del... Il gol del... Gervinio 1-0 Furgiolo Caputana Caputana All'inizio pensavo che ho dato il furgiolo Però... Poi ho dato un po' Che non so E fallo Ma che è modo in modo Olina verde Paredes Paredes No Cazzo è successo Oh Stai merda Stanno a giugare Pocotto Linea verde Paredes Ciò a guero Ciò a guero Paredes Linea verde Oh No Ma non è possibile Secondo palo da partita Io non so Vabbè ma che è spuso di culo Ecco Che cazzo Però non ho preso a palla Questa Me l'hai passata No Conde la merda Butta a mezzo Ma non volevo palla scivolata Quell'ho grossata Oh Ma volevo grassare Ma non riconosci I ideali E il quadrato E li sto ancora No Ma stop Porca pottana Ho capito i giorni Per sapere a prendere palla Sapere a stoppare Tutto su zarade Oh Vai 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 Fallo 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 No Lo ha tirato Lo ha tirato Lo ha tirato Oh 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 Uncino bimbo bianco Che cosa ho preso la palla Ho preso la palla Rosso Ebbene si è L'ho già munito Non ho preso la palla Non l'hai scusa Le casca di coglione Ho preso la palla SINESTRA Hai chido Mark Royce Troppo Ma porca ptana Avessi fa un muro Pia Zanoppi No Ok Nesha Beh c'è Final Deci Per cazzo Esultano Esultano perché Rega siamo ufficialmente passati Perciò significa che Final Do ha pareggiato Ha perso Ah beh Peccato per la sconfitta Comunque Siamo matematicamente Secondi Dai guarda Ma non è male comunque Avanziamo in 100 league Non è che non è mai facare Il problema è che adesso incontreremo tutte le bestie Andiamo a vedere un attimo la fase a gironi Le squadre prime Non so a finire Vabbè In generale Real Madrid Real Madrid Barcellona Una tra PSG e Galatasaray Una tra Juve e Schalke No Una tra Schalke Una tra City e Bilbao Leverkusen Bayer Moken Sarà tosta Sarà tosta Ma sono sicuro Che ce la faremo I prossimi giorni Vedremo la vita con l'Udinese E quella con il suolo Poi dato che Federico Dice che l'Alma È inutile Vabbè È inutile Perché praticamente Abbiamo già passati E parla Con l'Atalanta Perciò Ben quattro partite Comunque Questo vi è piaciuto Mi piace Ciao 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 Ciao